non lo vedremo subito dopo e andiamo con riccardo è stato più veloce era andata flick su cara avvitato bravo un po' scarso ma passetto e situazione risolta salta avanti teso con due salta avanti avvitato con caduta purtroppo era molto dirio di spalle l'inesperienza la giovane età la fiducia in se stesso l'ha portato probabilmente a cercare comunque il salto abbiamo visto sbagliarlo a più ginnasti ma i più esperti hanno evitato il secondo salto hanno fatto solo un salto raccolto di mezzo giro lui ha provato a mettere tutto dentro è una caratteristica tipica dei ginnasti giovani e di grandissima qualità come riccardo villa poi con l'esperienza maturerà anche questa gestione dell'imprevisto forza riccardo adesso ancora una diagonale per ondata salto teso con due e mezzo salto teso avanti passone laterale che purtroppo lo porta anche fuori di pedana ma per la finale triplo avvitamento per lui buono anche qui un bel passo laterale un esercizio con parecchie difficoltà e anche parecchie parecchie Grazie.